buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi parleremo di eczema eczema queste infiammazioni queste screscenze sulla pelle in qualsiasi parte del tuo corpo ipnosi vera e professionale se l'hai provate tutte e stai continuando a provarle senza nessun beneficio prova l'ipnosi vera e professionale siediti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona e inizia 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 e vedrai la tua pelle risorgere riemergere ritornare alla luce ed eliminare questo problema dell'ex e ma non credere al sottoscritto documentati approfondisci poi se non vuoi girare cappelle puoi utilizzare anche l'auto ipnosi l'ipnosi che ti fai da sola magari con la tua voce nella tua stanzetta senza girare cappelle scrivimi un'email in pubblico o privato a ipnologi associati chiocciolalibro.it e ti consiglierò per il meglio senza che i miei consigli rappresentino diagnosi cura e terapie perché il solo il tuo medico di fiducia responsabile della tua salute mi raccomando perché una cosa non esclude l'altra visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottore claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesser dottor claudio saracino e faccia il condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che ricambia la vita e viste anche i profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesser dottor claudio saracino e al prossimo video un bacio un abbraccio